Ebbene, questa videoguida sul plugin AP Trigga è stata realizzata da colui che per primo ha risposto ai miei appelli su scuolasuono.it per la realizzazione proprio di videoguide. Ecco a voi una videoguida davvero ben fatta, interessantissima, realizzata da un vero professionista, Michele Pocchiari, in arte Urukai. Ti invito a contattarlo eventualmente per metterti d'accordo con lui per registrazione e cose del genere perché è davvero un fenomeno. Buona visione e soprattutto ti consiglio caldamente di vedere anche la parte avanzata perché sarà proprio nella parte avanzata di questo tutorial che Michele spiegherà alcuni trucchi e trucchetti del mestiere davvero molto utili e interessanti. Ho imparato delle belle cose guardando questo tutorial, quindi non posso che incoraggiarti a vedere la prima parte e poi a loggarti per vedere la parte approfondita. Ciao da Francesco Nano, buona visione. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it e agli appassionati di recording. Sono Michele Pocchiari, qualcuno di voi mi conoscerà con lo pseudonimo di Urukai, dello studio Un Terzo Le Sebi di Milano. Puoi visitare la mia pagina profilo scuolasuono per ulteriori dettagli. Ciao ragazzi, in questo video parleremo di Apitriga. Apitriga è un resampler, ovvero un retrigger, cioè uno strumento che ci consente di ricampionare una batteria. Quante volte ci è capitato magari di avere una registrazione di batteria e notare che magari in fase di mix o di post-produzione, quindi i suoni, i fusti, i suoni delle singole riprese microfoniche non ci soddisfano più di tanto. Comunque sono fuori da quella che è la nostra idea di come dovrà suonare la batteria. Beh, in quel caso ci viene incontro un retrigger appunto, che ci permette di sostituire o di miscelare al suono originario dei nostri fusti, quindi di un rullante, di una cassa, dei tom, eccetera, dei campioni che abbiamo in nostro possesso, che possiamo scaricare da internet, ce ne sono molti in giro, che possiamo acquistare. Apitriga, in questo caso, è un plugin edito dalla Apple Soft. Il plugin è in versione VST, quindi per un utilizzo su Pro Tools dobbiamo usare un wrapper, un altro plugin, un altro strumento, che ci consente di fare il passaggio da VST a RTAS, perché Pro Tools legge esclusivamente i formati RTAS. All'apertura il plugin, ecco qui, è piccolino, sembra molto scarno, semplice, però contiene tutto ciò che è indispensabile per avere un ottimo campionamento. Bene, possiamo vedere qui una grande finestra principale, una finestra di sample, una finestra di sample dove caricheremo il nostro campione, da load sample appunto. Proviamo a fare, andiamo nella cartella dove ho tutti i sample, ecco qui, prendiamo un campione qualsiasi, e lo vedremo caricato per l'appunto nella finestra di sample. Possiamo rimuoverlo, possiamo caricarne altri, se non sbaglio fino a nove istanze, e muoverci tra essi. Possiamo, come detto, cancellarlo, e possiamo muoverci nella cartella del sample caricato. Abbiamo dei controlli di livello, quindi possiamo alzare un po' il volume o abbassarlo. Controlli di pitch, andremo a cambiare il pitch del sample, non è cosa molto usata comunque. E controlli di pan, poi vediamo meglio quando e come usarlo. La funzione di filter, qui, è molto importante, perché se magari abbiamo una parte di batteria che comprende ad esempio casse rullanti in un'unica traccia, ma vogliamo campionare solamente la cassa, beh, ci basta abbassare l'iCut, ovvero il taglio alle alte, per escludere tutta la parte medio-alta e alta, e tenerci solo la parte bassa, in modo che sia soltanto la parte bassa a far partire, una volta superata la soglia, a far partire il nostro campione. È molto comoda. La sezione di trigger è indicativa al trigger in sé. Ha dei controlli di gain, si può o meno dare più gain, se ad esempio il nostro segnale è troppo basso. Controlli di all smoothing, che poi comunque si vedranno nel video più approfondito. Nella sezione di out invece abbiamo anche qui altri filtri, che alla fin fine ci consentiranno di avere un suono più reale, di avere un'esecuzione più reale, poiché noi sappiamo che quando un batterista suona due o tre colpi, ogni colpo avrà dei volumi diversi, avrà anche un contenuto in frequenza diverso, dato dalla forza con cui e dal posto in cui colpisce il fusto. avrà anche un pitch leggermente diverso, magari un colpo più forte avrà più medio-alte, quindi si sentirà più la punta, quindi avrà un pitch tendente a essere più alto, eccetera. Insomma, sono tutte funzioni ottime per capire, per poter avere un risultato il più verosimile possibile. La sezione multimode invece è anche essa una sezione importantissima, che ci consente di avere tante possibilità di miscelare in modo diverso i campioni che noi carichiamo. Infine, la sezione dry mix o wet mix, ovvero ci consente di scegliere se miscelare il suono originale al campione, o se sostituire del tutto il suono originale con il campione. Poi vedremo nel video di approfondimento ognuna di queste sezioni in maniera approfondita, filter, trigger, sample, faremo vari esempi, sia su una cassa, su un rullante, su un file LR che magari comprende sia cassa che rullante. Vedremo anche qualche applicazione particolare, perché alla fine un resampler può essere tranquillamente usato anche in maniera molto più creativa che correttiva. Per vedere il video di approfondimento vi basta solamente registrarvi sul sito scuolasuono.it. La registrazione è gratuita, quindi ci vediamo sul prossimo video. Ciao!